Il 2023 è stato un anno davvero ricco di grandi titoli. Tuttavia si è rivelato anche un anno in cui hanno trovato spazio molti di quei giochi che ci saremmo volentieri risparmiati. E tra questi spicca senza dubbio The Walking Dead Destinies, nuovo adattamento videoludico della celebre serie tv targata a EMC Studios disponibile per tutte le piattaforme. Dobbiamo riconoscerlo, però. L'opera di Flu Games si basa su un concept intrigante, ma... Beh, seguiteci se volete sapere il resto. È giusto che soffriate insieme a noi. L'idea su cui si basa l'esperienza di The Walking Dead Destinies è molto semplice. Fa rivivere ai fan alcuni dei punti cardine della trama della serie, dando però anche la possibilità di stravolgerla, compiando scelte tra una battaglia e l'altra contro zombie o altri sopravvissuti. In estrema sintesi siamo al cospetto di un action in terza persona piuttosto basilare e con una spruzzata di stealth, che in certi momenti consente di decidere anche il destino del gruppo di protagonisti del franchise, ma ci teniamo comunque a sottolinearlo. Il materiale di ispirazione non ha nulla a che vedere con l'acclamato fumetto scritto da Robert Kirkman. Tutto inizia nell'ospedale in cui Rick Grimes si sveglia dal coma in un mondo post-apocalittico popolato da affamatissimi zombie. Pronti via? Basta muovere i primi incerti passi per accorgersi di quanto l'intera produzione tra palli di brutto, o almeno quanto il disorientato avatar che siamo chiamati a controllare. Sebbene ci sia in giro anche di peggio, è vero che il comparto estetico impiega appena un paio di minuti per deludere. I scenari, infatti, sono spogli e caratterizzati da texture in bassa definizione, mentre i modelli poligonali degli zombie dimostrano un livello tecnico globalmente bassissimo e tendono a ripetersi con una frequenza imbarazzante. Le animazioni del protagonista sono poi tutt'altro che fluide a tratti naturali, e per giunta identiche a quelle di ogni personaggio che l'utente controllerà nel corso dell'avventura. Senza contare poi che le espressioni del volto di Rick e compagnia Bella, apprezzabili soprattutto durante le cutscene, sono a dir poco grottesche. Il colpo d'occhio, insomma, non è dei migliori. Sembra infatti di avere a che fare con un prodotto che forse non avrebbe sfigurato su PS3 o Xbox 360, ma che sul finire del 2023 è davvero fuori tempo massimo. Brutto da vedere, insomma, ma fortunatamente non così orribile né tecnicamente instabile da influenzare più di tanto l'esperienza. Giocato su un PC di fascia alta, infatti, non abbiamo notato alcun rallentamento di sorta, né le nostre partite sono state drammaticamente interrotte da Crash improvvisi. Tuttavia è sufficiente analizzare la trama per constatare come l'intero progetto sia stato concepito senza una visione d'insieme. A meno che non conosciate la serie TV, infatti, è impossibile comprendere e orientarsi nel flusso di eventi che coinvolgono il gruppo di protagonisti. Se non siete a conoscenza del rapporto che lega Shane a Rick o come la compagnia sia giunta nella fattoria di Herschel, ad esempio, assisterete solo a una serie di video e di livelli completamente slegati tra loro. I dialoghi con schermate fisse che compongono le scene d'intermezzo non riescono poi in alcun modo a restituire la sequenza di causa ed effetto che spinge i protagonisti a comportarsi come fanno nella serie, un fattore questo che oltre a impedire e a qualsiasi neofita di capire cosa stia realmente accadendo, ma rende anche complesso valutare la portata delle conseguenze figlie delle decisioni da compiere durante l'avventura. La struttura affonda infatti buona parte della sua identità su bifi narrativi da affrontare in specifici momenti della trama, un elemento che da una parte consente di allontanarsi sensibilmente dalla storia della serie TV, mentre dall'altra dà accesso anche a differenti rami dell'albero delle abilità. Ciascun personaggio mette a disposizione infatti sei bonus che vengono poi condivisi tra tutti gli avatar di cui si prende il controllo nei livelli veri e propri e che spingono quindi a qualche valutazione in più quando ci si trova davanti all'ennesimo bivio narrativo. O meglio, avrebbe senso fare qualche valutazione se non fosse che sul fronte del gameplay si assiste solo a uno spettacolo semplicemente raccapricciante. Graficamente terribile, narrativamente sbilenco. Fino a qui The Walking Dead Destinies potrebbe ancora salvarsi se avessi almeno un buon gameplay. Come detto, l'avventura è un action 3D con visuale alle spalle del personaggio che, in linea teorica, alterna fasi stelta a momenti in cui bisogna farsi strada tra gli zombie con la violenza. Ebbene, nonostante si prende il controllo di vari volti noti della serie TV, non c'è alcuna differenza in termini di abilità, vita e resistenza tra l'uno o l'altro. L'eliminazione silenziosa alle spalle è sempre la scelta migliore, ma quando si comincia a combattere a distanza ravvicinata diventa fondamentale tenere sott'occhio la barra della stamina. Usare ad esempio la mazza da baseball, il macete o il piede di porco consuma infatti tantissima energia, e restare a secco può rivelarsi fatale. Certo, l'uso delle armi da fuoco è naturalmente consigliatissimo sia per sfottire gruppi di nemici dalla distanza sia per togliersi dai guai in alcune situazioni, ma in certi scenari la scarsità di munizioni raggiunge vette finora inesplorate. Inoltre il level design non è solo lineare, ma anche dannatamente elementare. La strada da seguire infatti è sempre una, e non si va mai oltre al corridoio seguito dalla stanza in cui eliminare i nemici uno dopo l'altro. Poi, come se non bastasse, gli zombie non sono mai così numerosi da costringere il giocatore a usare il cervello, e la velocità con cui si recupera la stamina e l'efficienza degli attacchi corpo a corpo è tale che basta correre in giro ed eliminare i non morti uno alla volta per avere la meglio in qualsiasi situazione. Inoltre complice la scarsissima varietà di avversari, già dopo i primi livelli tutto diventa ripetitivo, e non basta quindi affidarsi a fucili a pompa, mitragliatrici o pistole varie per accrescere più di tanto il divertimento. Ah già, il sistema di mira, quasi dimenticavo. In una parola? PESSIMO. La mira automatica finisce infatti per essere uno svantaggio il più delle volte, poiché si attiva scegliendo casualmente un bersaglio e ignorando spesso e volentieri minacce ben peggiori. Un difetto questo che si ripercuote anche nell'utilizzo delle armi a distanza ravvicinata, con un feedback dei colpi pressoché inesistente. E se a questo si aggiunge anche la difficoltà nel calcolare le distanze e delle hitbox dai nemici assolutamente arbitrarie, capirete da soli come il combattimento sia spesso frustrante, inutilmente difficoltoso, noioso e sempre uguale a se stesso. Purtroppo poi, anche quando si tratta di abbattere altri sopravvissuti, la situazione non migliora, anzi, vengono ancora di più a galla i limiti di un gioco che non ha certo investito nello sviluppo dell'intelligenza artificiale dei nemici. A peggiorare le cose, o a migliorarle a questo punto, ci pensa poi una longevità molto limitata. Otto ore sono infatti più che sufficienti per giungere ai titoli di coda, un traguardo questo da cui ci divide tra l'altro solo un paio di boss fight tra le più ridondanti e sconclusionate mai viste in un videogioco. Insomma, non c'è praticamente nulla che si salvi in The Walking Dead Destinies se non l'idea iniziale. La prospettiva di un action in cui è possibile modificare la trama rispetto a quella della serie tv avrebbe infatti certamente potuto intrigare i fan del brand, peccato però che non funzioni nulla, a partire dalla grafica che non è nemmeno l'aspetto peggiore della produzione. Il gameplay è piatto, ripetitivo e frustrante a causa di un combat system afflitto da seri problemi tecnici e in termini di longevità siamo ben oltre l'inaccettabile. Insomma, un titolo consigliato solo a chi vuole allargare la propria ludoteca di piccoli orrori videoludici. Voi cosa ne pensate? The Walking Dead Destinies potrebbe davvero ambire alla palma di peggior gioco dell'anno? Diteci la vostra nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdervi nessuna novità sul mondo creato da Robert Kirkman, anche quelle peggiori. Qui accanto trovate come di consueto dei video che potrebbero interessarvi. Alla prossima!